Ciao ragazzi, la prima cosa che faccio la sera è ovviamente giocare alla playstation così mi distrago un po' dalle stanchezze, tipo la scuola che è iniziata e mi rompo un po' le palle ovviamente dopo che ho giocato mi arrabbio, mi arrabbio perché fornit ovviamente mi fa incazzare ovviamente finisco di giocare, spengo la playstation e ovviamente la play mi fa arrabbiare ovviamente qua come ogni sera mi preparo per uscire con i miei amici a giocare alla playstation ovviamente mi fanno abbastanza tutti i ragazzi ovviamente è una parte della sera che ovviamente sono sempre indeciso da cosa mettere non potrei mettere, non lo so, non lo so, non lo so, ancora indeciso sono e qua ovviamente ho deciso mi sono vestito e mi preparo per uscire mi preparo per ovviamente rispegnere i soldi poi qua ritorno dalla serata e sono abbastanza stanco buona serata con i miei amici con la festa perfetta qua continuo a dire che è stata una serata perfetta perché ogni sera dico la stessa cosa non so cosa altro dire una serata perfetta come vedete adesso ci sarebbe una bella dormita qua tiro giù la tapperella quello è facile intelligente e qua mi vado a mettere il pigiamo perché voi con cosa dormite con la malattia della sera mi sono messo il pigiamo mi sono messo il pigiamo e ovviamente vado a spegnere la luce perché voi dormite con la luce accesa credo di no e spero di no e qua adesso io dormo con tutti i movimenti che mi giro perché io sono un bel ragazzo ok ragazzi questo video finisce qui condividete il video lasciate like iscrivetevi al canale da richiesa è tutto bella ragazzi grazie a tutti